Vaccines book. Oggi la giornata mondiale della lotta contro l'AIDS dall'intergruppo parlamentare arriva una proposta di legge. Michele Pisani. Non abbassare la guardia nella lotta l'AIDS, l'appello del presidente della Camera FICO che invita ad agire su più fronti. La prevenzione, l'informazione e lo stigma sociale che tocca le persone sieropositive. Su questi punti insiste anche la proposta di legge del gruppo interparlamentare l'Italia Ferma L'AIDS. La nostra proposta di legge guarda al futuro, quindi guarda alla prevenzione, allo screening, alla qualità di vita, all'assistenza territoriale e all'accessibilità ai farmaci innovativi. Il testo depositato due anni fa è all'esame della Commissione Affari Sociali della Camera. Al di là del provvedimento il presidente del gruppo interparlamentare sollecita l'opinione pubblica a mantenere alta l'attenzione sul tema. Oggi più di prima occorre parlare di AIDS perché l'AIDS non è scomparsa, è una malattia che esiste e l'HIV è un virus pericolosissimo. Questo lo devono sapere soprattutto le nuove generazioni. Per celebrare la giornata l'Intergruppo ha distribuito ai parlamentari il nastro rosso, simbolo internazionale della lotta all'AIDS.